Buongiorno a tutti, siamo un po' in ritardo perché abbiamo provato a fare tutte le verifiche del caso perché tutti i giornali praticamente danno per fatto Ashraf Hakimi alla Paris Saint-Germain per 60 milioni o qualcosina in più ancora non c'è l'ufficialità e lo speriamo veramente fino proprio a che non vedremo il comunicato dell'Inter perché veramente cosa dire, io probabilmente forse l'unico giocatore che non venderei, l'unico che fa una differenza del genere che ancora giovanissimo può fare veramente tanto, tanto ancora di più come ha dimostrato nella sua prima stagione all'Inter ma purtroppo mi sa che la strada è tracciata e che non si torna indietro e sarà la prima cessione dolorosa di questa campagna acquisti quindi Hakimi al PSG nonostante comunque fosse stato acquistato per 40 con un ammortamento porterebbe solo a 32 milioni adesso il suo diciamo costo reale 32 milioni quindi ha solo 28 neanche 30 milioni di plus valenza l'Inter però come spiegato ha bisogno di trovare un centinaio di saldo attivo di cash flow e di soldi in cassa per sistemare tutta la situazione, ieri sono arrivati 50 milioni di octree e già comunque qualcosa di buono però capite come anche Steven Zanghieri non sia neanche sceso per il pranzo quanto si stia lavorando, l'intenzione sarebbe quella di non cedere ai bigli, di non cedere adesso nessun altro però secondo me un'altra cessione pesante verrà fatta e attenzione a Lautaro che è lo stesso procuratore di Hakimi e che piace sia ad Atletico Madrid che al Real Madrid l'Inter così sistemerebbe tutto ma e poi potrebbe anche avere un minimo di budget per comprare dei sostituti si parla di Florenzi anche se voglio dire Darmian ha dimostrato che può benissimo essere lui il titolare della fascia destra, si parla di Lazzari, si parla anche di un Lazzaro che rientrerà pronto al Teccaldo intanto dal prestito al Borussia Mönchengladbach che potrebbe avere la possibilità di giocarsi delle chance importanti per dimostrare insomma anche grazie all'amicizia con Lukaku avete visto che si sta allenando con Romelu e il fratello Jordan la dimostrazione di un legame molto forte che ha instaurato con il leader della squadra quel signore lì numero 9 sperando appunto che si fermi qui la diaspora però c'è sempre anche la variabile Conte da tenere presente se troverà un accordo con Real Madrid o Tottenham sicuramente proverà a portare via Lukaku e magari anche qualcuno d'altro e sfruttando il suo ascendente rapporto che ha costruito nelle ultime due stagioni potrebbe riuscirci noi siamo qui alla finestra intanto è cominciato ufficialmente l'Erenzaghi firme in gran segreto conference call con Marotta e Ausilio nella giornata di ieri annunci ufficiali che però arriveranno solo dopo che risolverà alcune questioni con la Lazio e con l'Otito si parla dell'ultima mensilità di premie bonus che dopo il finale di questo genere non sono più diciamo dovrà fare una battaglia per averli farseli riconoscere da l'Otito che adesso così scottato e furioso sarà veramente un cliente molto difficile per qualsiasi tipo anche di trattativa si è fatto il nome di Luis Alberto che però ha una valutazione di una cinquantina di milioni e solo se l'Inter riuscisse a cedere Brozovic barra Eriksen molto molto bene credo che si possa intavolare una trattativa di questo tipo dovrebbe invece raggiungere Simone Inzaghi Radu in scadenza a giugno anche lui con la Lazio un suo fedelissimo che potrebbe essere diciamo un elemento in più anche se ha avuto spesso problemi fisici nelle ultime stagioni però costerebbe niente sarebbe un uomo di Simone Inzaghi che potrebbe chiederlo così per avere un po' di esperienza in più e uno che conosce assolutamente a memoria il suo gioco adesso siamo sempre sintonizzati perché aspettiamo un messaggio importante e è arrivato proprio in questo momento non è non è fatto non è ancora fatto a Kimi al PSG sentiamo le cose cambiano in corsa non è ancora fatto l'Inter chiede 80 milioni se no se no non ci pensa neanche e dunque un po' di speranza ritorna e cambiamo tutto cambiamo tutto cambiamo tutto ragazzi dovremmo cancellare e ripartire ma per farvi capire come si stanno evolvendo le cose e anche come arrivano i messaggi e aspettate che lo comunichiamo a tutti anche sui social e quant'altro quindi ragazzi c'è un minimo ancora di speranza che non sia a Kimi anche se la strada è tracciata l'Inter non ha detto no all'inserimento di Paredes come contropartita e chiede chiede alto solo così avrebbe senso e lo capiamo perché con 80 milioni sarebbe risolta anche praticamente tutta la campagna qui poi si tratterebbe di definire 10 milioni João Mario allo Sporting Lisbona 5 milioni è l'ultima offerta del Cagliari per Nainggolan e quindi con 80 milioni per Achimi si risolverebbe tutto però speriamo che il PSG non ci arrivi e che si possa magari trovare da altri in altri modi la soluzione per questi 100 milioni di cash flow che servono per la stabilità e per riuscire a dare una sopravvivenza mi chiedete in tanti in tanti appunto ma perché solo l'Inter perché l'Inter guarda al futuro perché l'Inter cerca come ha sempre fatto anche se qualcuno non ha mai rispettato il fair play finanziario qualcuno l'ha driblato qualcuno faceva il furbo mi riferisco a Manchester City PSG anche se sarebbe impossibile mettere qui Suning e strappare dei contratti anche come fa qualcuno in Italia da cifre da 50 milioni almeno si rispettano le regole e si fanno le cose nel modo giusto e di questo siamo sempre stati orgogliosi un'altra cosa che ci tenevo visto che sono arrivati un sacco di messaggi contro Steven Zhang dopo che ho postato il suo saluto che mi ha fatto ieri con quel pugno e quei sorrisi spiegando insomma come sia adesso un po' difficile la situazione ma garantendo grande competitività così come mi ha spiegato anche Beppe Marotta di questo vi dico sono convinto e sono convinti l'inter l'anno prossimo l'inter di Inzaghi sarà altamente competitiva nonostante ci dovessero essere uno barra due sacrifici eccellenti si andranno comunque a prendere dei sostituti magari a minor costo e poi vedremo che cosa che cosa accadrà però bisogna essere fiduciosi e soprattutto rispettosi di Steven Zhang di quello che ha fatto di quello che ha fatto il gruppo Suning di come abbia portato comunque l'inter sul tetto d'Italia riportato sul tetto d'Italia dopo 11 anni e costruito una squadra di questa forza portando Antonio Conte perché comunque il merito di tutto è sempre di Suning che ha scelto Conte non di Conte alla fine che poi se ne è andato in quel modo che avete visto tutti quindi rispetto massimo per Suning e sono sicuro che si cercherà sempre il meglio nelle difficoltà che hanno tutti vedete anche il Reale il Barcellona stanno cercando di tagliare gli ingaggi il Napoli vuole dell'Aurentis tagliare un 30% quindi ancora di più rispetto all'Inter di Montengaggi però la situazione è questa andiamo adesso a fare un punto dei vostri messaggi con questa Erenzaghi ufficialmente cominciata in gran segreto per iniziare a programmare il futuro dovrebbe esserci anche una tournée negli Stati Uniti covid permettendo in estate dopo un ritiro tra virgolette ad appiano purtroppo sono ormai lontani i tempi in cui si andava in montagna si apriva un po' anche l'Inter ai suoi tifosi e si dava la possibilità di stare un po' più vicino andiamo a leggere un po' di messaggi Carl Grech ci chiede non si poteva tenere almeno Pintus ma essendo legatissimo a Conte ti dico purtroppo proprio no forza mister Inzaghi Antonio 1986 vogliamo Ericsson al centro del gioco dell'Inter potrà essere proprio così l'uomo da non mandare via è Marotta è lui il vero top Francesco Scalercio e l'accendiamo questa Francesco Reggiani Inzaghi per me farà benissimo mi piace persona seria ma soprattutto non è Juventino sono d'accordo con Marotta grande scelta in bocca al lupo Simone Inzaghi Conte semplicemente un coniglio adesso anche però rispetto sempre per tutti mi raccomando Alessandro Daria Simone Inzaghi è l'allenatore che negli ultimi dieci anni dopo Allegri ha vinto di più in Italia più partite in serie A ricordate due anni fa prima della sospensione il campionato dove era la Lazio in classifica forse avrebbe anche vinto Gabriele Di Mauro Silver Black le vedove di Conte stanno ancora piangendo non sanno che come dice il famoso proverbio morto un papa se ne fa un altro Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter Alessandro Lamberti a me non dispiace Inzaghi l'importante però è che la squadra non venga smantellata è uno dei primi passi che farà Simone Inzaghi è parlare con quel signore lì e cercare di ricostruire il tutto intanto stavo dimenticando la notizia molto importante del rinnovo di Bastoni fino a 2024 a quasi 4 milioni a stagione e fa capire come l'Inter comunque continua a costruire se Inzaghi quindi abbiamo tre di top player 1.43 secondi Drin Dean l'orco hawaiano Alex Lady J avrebbe preferito Simeone non Simone all'Inter e Tosta hanno fallito quasi tutti sono Mancini Molini e Conte bisogna essere allenatori dirigenti al tempo stesso ciao Marco ottimo colpo Benzaghi un ottimo allenatore adatto a seguire il lavoro iniziato da Conte Allegri più Juve uguale seconda stella Inter Roberto Secondi sempre solo forza Inter Fabio Locco Alfredo Candiracci sempre forza internazionale Moratti De King Antonio Carasso speriamo bene Fabio basta che ci teniamo ha rotto i reali ciao Marco non so o reali non credo però vi terrò informati intanto vi abbiamo dato questa minimo di speranza che solo per 80 milioni l'Inter cede a Chimi al PSG se no non accetta non accetta quei 60 di cui parlano tutti i giornali andiamo andiamo all'app Sport Mediaset che in home page a tutte le ultime notizie vediamo se hanno aggiornato anche con quella che abbiamo appena dato qui praticamente in diretta tutto se si apre riproviamo chiaramente se dovesse il PSG alzare però l'offerta mi sa proprio che sarà a Chimi stasera la Champions inglese Chelsea City e poi dopo Conte l'Inter inizia l'era Inzaghi arrivata la firma fino al 2023 gole ad azzurra contro San Marino doppiate per Politano e Pessina e poi manca solo l'annuncio per Inzaghi pressing Watford su Young a Chimi si avvicina al PSG ma vediamo che succede vediamo che succede con Screener che dice voglio restare giornali in edicola tutti titolano a Chimi al PSG però in diretta vi abbiamo detto che l'Inter vuole 80 milioni vedremo se si riuscirà a tenerlo oppure a venderlo strabene e allora questo sì che darebbe un senso perché poi così non sarebbero più necessari altri sacrifici però quasi praticamente venderlo al doppio di quanto pagato solo un anno fa sarebbe comunque in tempo post pandemia un gran colpo in ogni caso seppur doloroso prima pagina della Gazzetta dello Sport a Chimi al PSG l'Inter incassa 60 milioni Zhang vende Inzaghi al lavoro per Lukaku Florenzi in pole position come sostituto bastone fino al 2024 allora l'obiettivo è riuscire a non cedere più altri big andiamo all'interno CR7 partita doppia al trainer Ronaldo se vuole lasciare Pogba o Icardi pedine di scambio andiamo all'interno ciao ciao Akhimi Ashraf PSG si fa all'inter 60 milioni rispunta Florenzi a fare alle battute finali Nerazzurri solo con tanti potrebbe essere l'unico big a partire ora si punta alle cessioni minori per far cassa può arrivare Radu Ashraf Akhimi ai saluti era stato il primo acquisto della scorsa stagione ora sarà il primo giocatore lasciare dopo lo scudetto la trattativa tra Inter e PSG è in uno stato molto avanzato non manca molto per arrivare alle firme il club Nerazzurro incasserà una cifra vicina ai 60 milioni tutto cash senza contropartite si era parlato in un primo momento proprio su richiesta del club parigino in inserimento del centrocampista argentino Paredes ma presso la trattativa si è spostata sul binario che preferiva la società di Zhang proprio per far fronte alla necessità economica del club l'Inter ha bisogno di ottenere un attivo tra i 90 e i 100 milioni di euro dal prossimo mercato al netto le plus valenze ecco perché la Diodia Chimi che pur ha un costo residuo a bilancio di 32 milioni è comunque conveniente permette al club Nerazzurro di guardare con più calma e fiducia al futuro il piano del club come già raccontato è riuscire a vendere un solo giocatore top uno dei famosi set intoccabili delle racconte per intendersi per arrivare ai 90 100 milioni servirà un grande lavoro del DSP era ausilio ovvero riuscire a piazzare facendo cassa alcuni giocatori meno centrali nel progetto tecnico e potrebbe anche esserci Antonio Conte dietro a questo affare vedremo se si libererà la panchina del PSG si leggeva in un ritorno di Pocettino al Tottenham comunque una girandola di panchine che continua anche in Europa ancora meglio di sicuro qualcosa si può guadagnare dalla cessione di Gio Mario vi ho detto 8-10 milioni e si è praticamente vicini a definire nel suo ritorno allo sporting occhio poi al Nainggolan vi ho detto 5 e permetterebbe anche di risparmiare 9 milioni lordi di ingaggio in questi tempi è già qualcosa difficile oggi invece farsi un'idea di cosa potrà accadere con Dalbert e Lazzaro di sicuro l'Inter aspetta offerte per poter mettere a referto altre uscite preziose per l'obiettivo finale io Lazzaro una chance di Adaray per capire insomma era molto forte Gladbach non è che abbia fatto benissimo poi attenzione a Spalletti che vorrebbe Vessino attenzione a Gattuso che vorrebbe sensi con Bergamo che dice Romelu e Barella sono intoccabili non sottovalutate Brozzo e poi nel precampionato una tournée nei Stati Uniti come vi ho detto prima Inzaghe l'Inter al lavoro per convincere Lukaku fa scuola immobile Romelu scosso dall'addio di Conte Simone gli può mostrare i 150 gol fatti con lui da Ciro Amadeus sono arrabbiato e preoccupato per l'addio di Conte l'allenatore sa come guidare le punte basta vedere la Lazio la società il Belga è uno degli intoccabili nonostante i segnali del Chelsea il prezzo però è di 120 milioni se qualcuno dovesse arrivarci anche lì non sarebbe incedibile come non ce ne sono in casa Inter se non è come Dio salvi la regina poco ci manca un inno alla gioia alla speranza è un muro alto così è il primo compito di Simone Inzaghi sotto forma di nome e cognome Romelu Lukaku non è un gioco quei sentimenti non si scherza i sentimenti di Lukaku nei confronti di Conte ad esempio sono stati chiari anche al più distratto degli abitanti del pianeta Terra porterò con te i tuoi principi per il resto della mia carriera ha scritto così Big Rom per salutare l'ex allenatore ma pure i sentimenti dei tifosi che non vorrebbero mai veder partire il giocatore simbolo dello scudetto quelli della società che non ha la minima intenzione di privarsi del Belga se mai esistesse un ordine di priorità nelle cessioni Lukaku sarebbe l'ultimo dei sacrificabili sono altri destinati a partire a breve Hakimi come si legge altrove poi ci sono anche i sentimenti di Inzaghi un nuovo allenatore che ieri in gran segreto avrebbe già firmato il biennale con l'Inter di Lukaku pensa tutto il bene del mondo nel curriculum può anche vantare un feeling la scarpa d'oro di Ciro immobile poi bastoni rinnovo ufficiale ingaggia 4 milioni per un leader del futuro difensore prolunga fino al 2024 un segnale del club per i tifosi aspettando di capire di vedere cosa accadrà sul fronte Lautaro Corriere della Sera si parla anche qui di Hakimi non così definitivo come da altre parti e poi di questo diciamo terremoto di panchine la senza padroni con tutti i cambi che ci sono stati la rivoluzione delle panchine fa nascere un campionato senza squadra pronte a vincere l'Inter passa all'incasso Hakimi verso il PSG per 60 milioni contro il Tottenham e Real spalletti del Napoli Juric firma col Torino per la Lazio in corsa italiana facciamo anche un in bocca al lupo allo spallettone per questa sua nuova avventura lui che ha iniziato diciamo il ritorno dell'Inter tra i grandi in Champions la prima vittima da sacrificare sull'altare del contenimento dei costi è Hakimi la cui cessione per 60 milioni del PSG è ai dettagli questo scrive il Corsera stesso tenore anche per il Corriere dello Sport lo andiamo ad aprire subito in prima pagina la notizia di Hakimi venduto quando vi ho detto che ancora però non siamo arrivati a quegli 80 milioni che vuole l'Inter vedremo se si inseriranno anche delle contropartite se si inserirà il PSG su Hakimi si chiude a 70 milioni è un po' diverso oggi il Corsport però poi dice la mossa del club francese accorda un passo Inzaghi ha firmato per due anni a 4 milioni però slitta l'ufficializzazione c'è anche Sarri nelle idee di Lottito ma dubito penso molto invece di più a un italiano andiamo all'interno Smart Inzaghi le prime mosse viaggiano online il nuovo allenatore dell'Inter in conference call con i dirigenti si punterà sempre più sui giovani la firma sul contratto ieri slitta l'annuncio l'importante è che abbiamo un piano e una strategia ecco i primi 50 milioni crescono le scatole cinesi creata una nuova controllante sarà più facile acquisire il club in caso di default e grazie al Corsport addirittura adesso il default per l'Inter comunque non cambia nulla in questa prima fase si può lavorare a distanza per gettare le basi del nuovo progetto è successo tutto in pochi giorni ma Inzaghi è stata chiarita la situazione dal lato delle difficoltà del momento con l'obbligo di chiudere il mercato con un attimo di 90 milioni e di sforbiciare i costi operativi di almeno il 15% continuità e stabilità come ha ricordato la di Antonello l'importante che abbiamo un piano e una strategia PSG a un passo da Achimi 70 milioni Lautaro può portarne altri 80 e 90 Martinez conteso da Reale Atletico per la fascia c'è l'idea Florenzi Bastoni ha rinnovato il contratto fino al 2024 per 3 milioni all'anno più bonus quasi 4 poi 70 milioni per Achimi il marocchino è già quasi in partenza per Parigi Leonardo ha deciso di rompere l'induge andando incontro alle esigenze dell'Inter l'offerta infatti è tutta cash alla luce della portata il club dell'azzurro non è nelle condizioni per rifiutare insomma la fumata bianca è un passo Achimi sarà primo big a essere sacrificato sull'altare dei conti un anno fa giusto di questi tempi Marotta ausilio mettevano a segno il colpaccio garantendo il Real Madrid 40 più 5 di bonus il marocchino li ha ripagati tutti diventando uno dei protagonisti dello scudetto ma la sua avventura a Milano appare già ai titoli di coda vediamo stiamo a vedere pronti con una nuova edizione straordinaria come in questi giorni e vi ringrazio per la fiducia e per come state facendo crescere il canale vi ricordo sempre il gruppo Telegram per avere tutte le ultime notizie e essere sempre sul pezzo qualsiasi cosa accade poi informati di live e video che escono chiudiamo velocemente con tutto sport Max Sceglia Morata e poi Achimi PSG si chiude a 60 milioni abbiamo spiegato che non è così vediamo vediamo che succede vediamo offerta spaziale Achimi PSG si fa Al Pacino no Inzaghi citazioni da film è il modello Conte il nuovo allenatore è un vero cultore del gruppo come già è evidenziata una tesi di Coverciano tutto sport intanto il Real parla con Conte per il dopo Zidane i bastoni rinnova fino a 2024 queste tutte le ultime notizie vi aspetto poi stasera in live ore 22 30 23 appena finita la finale di Champions faremo un punto cercando di capire tutto quello che sta succedendo ma fiducia rispetto che ci sarà sempre una grande Inter a difendere il titolo appena conquistato perché tanti si lo stanno dimenticando solo una squadra avrà lo scudetto cucito e sarà questa maglia qua alle nostre spalle che avrà presto un nuovo sponsor anche qui si ha i dettagli presto ve lo diremo buona giornata ancora a tutti mi raccomando a tutti